Quello che conta adesso è estranearsi per quello che è successo giovedì e concentrarsi sul campionato perché vogliamo arrivare a vinti, siamo vinti, dobbiamo consolidare questa posizione e l'unico pensiero deve essere questo, non ci devono essere alibi, allarmismi o distrazioni. Infrontiamo una grande squadra che ha dimostrato che è stato di essere un grande gruppo ben allenato e sicuramente la partita richiede la massima convinzione e attenzione dello sviluppo della partita stessa.